E dalle decisioni della Giunta Comunale passiamo a quelle dell'Esecutivo Provinciale, i particolari nel servizio. Con i voti contrari degli assessori italiani, la Giunta Provinciale ha deciso di impugnare la delibera del Consiglio Comunale di Laives che ha nominato l'italiana Anna Conte, nuovo segretario generale a partire dal 1 luglio 2009. Un posto che per l'Esecutivo Provinciale a Laives sarebbe riservato al gruppo linguistico tedesco. Il Presidente Durwalder ha rilevato che nel Comune della Bassa Tesina tutte le quattro direzioni di ripartizione sono attualmente ricoperte da appartenenti al gruppo linguistico italiano. Approvata l'assegnazione ai Comuni della prima rata per complessivi 63,4 milioni di euro a fronte dell'importo finale di 253,8 milioni per il finanziamento della bilancio 2009. L'erogazione della cosiddetta quota pro capite vede tra gli importi maggiori per la prima rata i 15,4 milioni assegnati a Bolzano, i 5,6 milioni a Merano, i 2,5 milioni a Bressanone e i 2 milioni assegnati a Laives. In merito agli alloggi che la provincia ristruttura o costruisce nell'ambito dell'areale delle caserme a fronte di permuta di terreni demaniali, i giuristi di Palazzo Wittmann hanno espresso parere che non sia necessaria apposita concessione edilizia e che basti invece una semplice intesa Stato-Provincia. Il chiarimento, ha detto Dunwalder, si è reso necessario in vista dell'avvio della prima delle sei fasi di lavori che dovrebbero concludersi con il 2012 e che interesserà i beni militari ad Appiano, Bressanone e Varna. La Giunta ha poi deciso di adeguare di un 3,3% i limiti di reddito per la concessione delle pensioni per invalidi civili, cecchi civili e sordomuti. 14.886 euro per il limite di reddito per invalidi civili, 4.382 per quelli parziali e fissato nuovi importi per le indennità di accompagnamento e indennità speciali con decorrenza 1 gennaio 2009, 472 euro per l'accompagnamento degli invalidi civili, 755 per i cecchi civili. Approvata la copertura finanziaria 2009 per 34,7 milioni per il contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico veterinario del Servizio Sanitario Provinciale. Infine la Giunta ha approvata la prosecuzione della serie di incontri su specifici temi legati alla femminile del servizio donna e che comprende il servizio di consulenza gratuito per le donne, l'importo assegnato è di 129 mila euro.